In attesa di venire al museo accompagnati dei genitori o con la vostra classe per una visita guidata e un laboratorio didattico parliamo oggi di un argomento legato alla montagna e alla storia dell'uomo, le incisioni rupestri. Nella penombra della prima sala del museo sono presentati alcuni reperti che si riferiscono alle prime comunità alpine, uomini preistorici che hanno lasciato un segno del proprio passaggio sulle montagne. Ad esempio sono esposti due calchi in gesso risalenti agli anni 40 del 1900 ricavati da originali rocce incise dell'arco alpino. Con il termine arte rupestre ci si riferisce a pitture o incisioni sulle pareti di grotte o ripari o su superfici rocciose all'aperto risalenti a diversi periodi della preistoria presenti in tutti i continenti. Nell'arco alpino numerosi sono i ritrovamenti di incisioni rupestri preistoriche anche dette petroglifi o segni su roccia. I due principali complessi dell'arte rupestre alpina sono la Val Camonica in provincia di Brescia in territorio Lombardo e l'area del Monte Bego sulle Alpi Marittime al confine tra Italia e Francia conosciuta come Valle delle Meraviglie. Decine di migliaia di segni incisi sono stati individuati in entrambe le zone caratterizzate dalla presenza di rocce quali arenarie o peliti la cui tenera superficie è stata levigata in passato dall'azione dei ghiacciai rendendole quindi ideali da poter incidere. Ma come venivano realizzate queste incisioni? erano necessari strumenti appuntiti come ad esempio una roccia più dura della superficie da incidere che poteva essere raschiata a graffio o graffita oppure picchiettata con la guida di un secondo strumento il percussore. Nel primo caso si parla di tecnica ad incisione nel secondo caso di tecnica a martellina nella quale le figure risultano composte da tanti pallini. I petroglifi preistorici si possono classificare a seconda di ciò che è rappresentato in grandi famiglie. Figure geometriche, reticolati e griglie ancora oggi di difficile interpretazione probabilmente composizioni topografiche risalenti al Neolitico e presenti soprattutto nella zona del Monte Bego. Armi, pugnali, asce e alabarde facilmente confrontabili tipologicamente con ritrovamenti archeologici che vanno dalla fine del Neolitico all'età del bronzo. Meandri e spirali, figure geometriche ancora oggi di difficile interpretazione probabilmente legate a rituali di tipo religioso sacrale che compaiono a partire dall'età del bronzo e perdurano nell'età del ferro tra il secondo millennio avanti cristo e il primo secolo dopo cristo. Antropomorfi, figure umane più o meno stilizzate con arti e corpo a tratti lineari. Spesso hanno nomi tradizionali dati dai primi scopritori come nel caso del celebre stregone del Monte Bego, una figura incisa data dall'unione di più categorie con un volto geometrico e le mani in posizione di orante che brandiscono dei pugnali. Guerrieri, raffigurazioni della società guerriera protostorica dell'età del ferro, rappresentati a cavallo, in combattimenti individuali, riconoscibili poiché armati, presenti soprattutto in Valcamonica. Scene quotidiane. Specie in Valcamonica non mancano ad esempio scene con carri o con capanne che ci aiutano a capire lo stile di vita delle popolazioni dell'età del ferro. Infine tipici della zona del Monte Bego sono i cosiddetti corniformi, animali bovidi visti dall'alto, talvolta accompagnati da aratri. La difficoltà nello studio delle incisioni rupestri consiste nel fatto che spesso più immagini coesistono sulle stesse rocce e non necessariamente si tratta di petroglificoevi, anzi possono risalire ad epoche diverse fra loro. È il caso della roccia qui riprodotte in museo contenente la cosiddetta incisione del capo tribù, in cui individuiamo reticolati, armi e appunto il capo tribù, una figura ancora oggi molto enigmatica, colpito alla testa da un pugnale o secondo alcuni da un fulmine. Sempre in museo è conservato un secondo calco, ricavato da una roccia incisa della Val Camonica, risalente all'età del bronzo, e raffigurante dei cervi. Forse una scena di caccia? Inoltre, il museo conserva anche altri calchi in gesso, su base in legno, delle celebri incisioni della Valle delle Meraviglie, sul Monte Bego, talvolta visibili nelle mostre temporanee, realizzate periodicamente per i visitatori. Se salite sulla terrazza del museo, vedrete il rocciamelone. Alle sue pendici, verso Susa e il Moncenisio, si trovano molte rocce con incise scene di guerrieri e di caccia di 2500 anni fa, che lo rendono il terzo polo dell'arte rupestre delle Alpi. Se siete curiosi di scoprire di più su questi antichi segni del passaggio dell'uomo preistorico sulle montagne, vi invitiamo, non appena sarà possibile, a consultare i testi disponibili sull'argomento presso la Biblioteca Nazionale CAI, nell'area documentazione del museo. Grazie.